Ciao ragazzi e ben ritrovati, io sono Niccolò e oggi vi spiegherò come creare un timelapse utilizzando Photoshop. Io sto usando la versione CS6 di Photoshop ma voi potete usare anche la CS5 Extended. Sulle versioni non extended non funziona perché non possiamo fare animazioni. Innanzitutto la prima cosa da fare è mettere tutte le nostre foto che andranno a comporre il timelapse in una cartella specifica e se non lo sono già rinominarle in ordine sequenziale. Come vedete la mia prima foto parte da 3644 e vanno via via aumentare fino a 3744, ovvero sono 101 foto in questo caso. Se non sapete come effettuare un timelapse con la macchina andate su Google a cercarlo oppure magari io e Matteo faremo un video dove vi spiegheremo come farlo. Però in questo video io mi andrò a occupare soltanto della parte post produzione dentro Photoshop. Questi sono JPEG e io per questo video utilizzerò dei file in JPEG. Infatti voi potete utilizzare anche dei file TIFF ma solo se avete un computer molto potente. Infatti se avete un computer abbastanza scarso non vi conviene utilizzare dei file molto grossi altrimenti ci metterà una vita per la preview e per l'elaborazione. Ma comunque scelta vostra fate quello che vi pare. Una volta che avete ordinato tutte le vostre foto in sequenza torniamo su Photoshop e andiamo a creare un nuovo video. Quindi facciamo clic su file nuovo e nel predefinito mettiamo film e video. Ora io utilizzerò HDTV 720p a 29,97 frame per seconda. Voi potete utilizzare anche il Full HD che è 1080p. Io utilizzerò questo 1280x720 con risoluzione a 72 pixel per pollice. Potete anche scegliere di gestire il colore dentro Photoshop. Io non lo farò ma se voi lo volete fare utilizzate HDV Rec 709 che è il colore per i video HD. Io clicco su ok e mi si apre questo nuovo sfondo con le dimensioni di un file a 720p appunto. Andiamo ad aprire la timeline e invece che cliccare su crea timeline video vado su livello, livelli video, nuovo livello video da file e vado a prendere la prima immagine della sequenza. Come vedete Photoshop rileva già che è una sequenza infatti viene spuntata automaticamente la sequenza immagine. Seleziono la prima come ho detto e premo apri. Nella timeline ora viene creato questo nuovo livello 1 che sono le mie foto. Vado ad ingrandire un po' l'immagine per farvi vedere a voi aumentando la dimensione dell'anteprima qua sotto. E come vedete queste 101 foto superano di poco i 3 secondi. Arrivano a 3 secondi e 10 frame. Ora visto che ho usato nelle impostazioni 30 frame al secondo vorrà dire che ogni secondo che passerà nel mio video avrò 30 foto. Io in questo caso però voglio avere 25 frame al secondo invece di 29,97. Quindi clicco su questo triangolino qui e vado su impostazioni, frequenza, fotogrammi, timeline e invece di 29 metto 25. Ora come vedete nella mia immagine è tutto nero. Infatti le foto sono state scattate con un sensore da 21 megapixel che sono un pochetto più grandi delle dimensioni di un video a 720p. Quindi devo rimpicciolire le mie foto per farle combaciare con l'aspetto video. Premo su CTRL T in modo da convertire questo video in un oggetto avanzato in modo da poterlo muovere. E poi premo CTRL 0 per vedere gli estremi delle mie foto. Come vedete la foto è gigante rispetto al video HD. Prendo gli strumenti di trasformazione e tenendo premuto maiuscolo in modo da bloccare le proporzioni vado a rimpicciolire la mia foto rispetto al mio quadro. Avendo le foto un rapporto 2 terzi invece che 16 noni come fa il video come vedete una parte sopra e sotto viene tagliata della nostra foto. Quindi possiamo andare a scegliere una composizione che più ci aggrada. Una volta selezionata la parte della foto che vogliamo avere nel video come vedete se io porto avanti la timeline le nuvole si spostano. Ovviamente non è in tempo reale perché Photoshop deve andare a pescare quella foto dal mio hard disk e quindi ci metterà un po' di tempo. Infatti apparirà una lineetta verde sopra la nostra timeline che ci indicherà che questa parte del video è stata renderizzata e salvata nella memoria. Ora che ha un computer più potente questa cosa sarà molto più veloce. Se infatti vado a premere spazio ovvero play vedete che il video non viene riprodotto alla velocità normale ovvero 25 frame al secondo ma a uno scarso 1,75 frame al secondo. Però la barra si riempie quindi se io lo faccio ripartire dall'inizio premo spazio vedete che le nuvole vanno avanti. Ora io posso anche andare a spostare la mia foto durante la timeline in modo da poter zoomare sull'immagine e far vedere un dettaglio per esempio iniziare sulla luna all'inizio della timeline in questo modo e poi alla fine avere l'immagine totale. Come faccio? Clicco sul livello 1 e clicco sul cronometrino accanto a trasforma. Vado avanti fino alla fine della timeline e ridimensiono la mia foto come prima per dargli le dimensioni di questo HD. E vedete che viene aggiunto un nuovo keyframe rispetto a questa posizione. Premo invio per confermare la trasformazione del file. Come vedete all'inizio l'immagine è zoomata sulla luna mentre alla fine è tutta intera. Quindi durante la timeline la mia composizione si sposterà verso indietro andando a ingrandire sempre di più il cielo con la luna. Una volta che abbiamo sistemato anche questa cosa quindi l'inquadratura e quindi lo zoom e quindi tutti gli effetti che volete dare possiamo andare ad aggiungere dei filtri al nostro video. semplicemente come li mettiamo nelle nostre foto per esempio io posso andare ad aggiungere un livello di regolazione curve in modo da dare più contrasto alla mia foto e aggiungere magari un tocchettino di blu magari vado a togliere un po' di rosso ok posso andare a aumentare la vividezza per esempio e abbasso un pochino la saturazione posso dare un filtro fotografico più freddo in questo caso visto che è notte ok direi che qui siamo a posto magari vorrei un po' più di contrasto sulle nuvole quindi aumento un po' le curve ok una volta aggiunti anche gli effetti possiamo andare a completare il nostro video andando sempre su questo triangolino qui e cliccando sul rendering video ci si apre questa finestrella per il rendering video chi ha già visto il mio tutorial sul far nevicare lo saprà di già possiamo andare a scegliere la cartella in cui andare a salvare il file e andiamo a scegliere un formato tra QuickTime oppure H.264 scegliete H.264 se volete mettere il file su internet in quanto vi crea un file più compresso e quindi adatto per il web e invece QuickTime per avere un filmato da tenere sul vostro hard disk ma con una maggiore dimensione in megabyte io scelgo H.264 alta qualità le dimensioni lascio quelle dell'HD dell'inizio del documento metto 25 frame al secondo come detto prima e metto tutti i fotogrammi 3D, nessun 3D visto che non è un file 3D e clicco su rendering diamo un titolo al mio video e clicchiamo su rendering ora l'esportazione del video potrebbe durare parecchi minuti in base alla quantità dei filtri che avete messo alle dimensioni delle vostre foto al se state usando TIF o dei JPEG insomma più cose avete aggiunto e più sarà lunga l'esportazione del video quindi potete andare a fare altro nel frattempo Photoshop ha finito di elaborare il video andiamo a vedere come è venuto fuori come avete visto è stato molto semplice da fare con questo è tutto postate i vostri risultati i vostri timelapse che avete creato sulla nostra pagina Facebook trovate tutti i dettagli qui e nella descrizione del video un saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale ciao